Durante un momento di intimità, Greta ha rivelato a Perla i suoi piani per il futuro una volta uscita dalla casa del grande fratello. Le due ragazze, insieme a Mirko Brunetti, hanno condiviso un viaggio emozionante e un'esperienza televisiva intensa durante Temptation Island 2023. Come ben si ricorda, la storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è iniziata e conclusa durante l'avventura a Temptation Island lo scorso estate. Mirko ha incontrato Greta Rossetti nello show e ha iniziato una relazione con lei dopo aver lasciato Perla. Una volta entrati nella casa del grande fratello, il trio è diventato il centro dell'attenzione del pubblico, protagonista di un triangolo amoroso che ha tenuto banco per gran parte del reality. Tuttavia, Mirko è stato eliminato dal grande fratello a causa delle complicazioni nel gestire il suo rapporto con entrambe le ragazze. Perla e Greta hanno discusso spesso delle loro scelte durante e dopo Temptation Island, mostrando le loro diverse personalità e prospettive. Ora, mentre la finale del grande fratello si avvicina, i concorrenti riflettono nostalgici su tutte le emozioni vissute nella casa e sui bei ricordi che porteranno con sé. Tra le chiacchiere e i momenti di condivisione, molti si sentono ansiosi di tornare alla vita normale, riabbracciare le loro famiglie e iniziare nuovi capitoli pieni di sogni e progetti. In questo contesto, Greta ha confidato a Perla il suo desiderio di investire su se stessa una volta lasciata la casa. Vuole studiare, impegnarsi e realizzare il suo sogno di diventare una giornalista professionista.